Parolo prova a metterla dentro, Malonga si gira! Abbiati, grande girata di Dominic Malonga e poi Giuseppe Colucci da fuori, c'è forse una deviazione, è facile per Abbiati è partito Schelotto, prova a prendere alle spalle Antonini che ha un buono scatto, un buon recupero sbaglia clamorosamente il tocco però Schelotto, Abbiati, Schelotto, salvataggio di Abate e poi Abbiati deve mettere in calcio d'angolo clamorosa palla gol per il Cesena al diciassettesimo Ibrahimovic, Robigno e Cassano, eccoli che vanno via Robigno accelera, uno contro uno di Robigno, dopo passo Robigno Antonioli, slalom gigante di Robigno Cassano mi ha dato Ibra, suggerimento per lui Antonioli insiste Robigno in area di rigore con il destro alto sopra la traversa al trentesimo le due migliori occasioni del Milan Ibra e Robigno poi la partita dalla parte opposta per Robigno riesce a tenere il pallone in campo attaccato della Fiore Robigno con il tacco, splendido Tiago Silva salvataggio, poi Antonioli anticipato da Von Bergen splendida giocata per Tiago Silva da parte di Robigno sul calcio d'angolo è Von Bergen che mette fuori non benissimo Pellegrino prolunga poi Parolo poi un caos arriva Antonini sul fondo alta palla gol per il Milan Ambrosini arriva Bate veloce Ambrosini nullo serve ha preso il tempo a Malonga poi invece Ibra di petto poi arriva Robigno sul fondo uno contro uno di Robigno ancora centrale Tiago Silva pensa al pallone scodellato Cecarelli ha chiuso c'erano forse due uomini fuori gioco poi invece posizione regolare Robigno dalla parte opposta scodella ancora per Ibraimovic Antonioli sul follo d'angelo di Ibra Tiago Silva Cassano prova a partire va dalla parte chiusa riesce a superare il ritorno di Colucci ancora Cassano dentro Ibra posizione regolare anticipato è un autogol non ha segnato Ibraimovic se non sbaglio secondo me è visto bene è autogol di Pellegrino Ambrosini cerca Iepes la mette giù Iepes lotta sbuca Antonioli e poi il salvataggio sulla linea di Von Bergen pronto a battere Ibraimovic alto sopra la traversa non di molto ha toccato anche Antonioli c'è caccio d'angolo Merkel cerca Ibra la mette giù Ibra di petto poi finta il tiro sempre Ibraimovic arriva Tiago Silva si è coordinato bene perché ancora una volta il pallone era rimbalzato in maniera irregolare cacciato sul fondo pallone per Caserta Bogdani in area di rigore Bogdani l'anticipo di Papastatopoulos decisivo Ibraimovic si è infilato Robinho eccolo Robinho con Antonioli che fa un miracolo Bogdani c'è San Marco libero eccolo servito San Marco in area di rigore uno contro uno di San Marco rientra sul destro schiaccia sul primo palo buona occasione per il Cesena al trentasettisimo Robinho in posizione regolare Robinho Robinho e si divora un altro gol Robinho ma incredibile Ibra stavolta in area di rigore Ibra come c'è siete sempre liberi di dire la vostra questa nostra domanda entra in